Le invenzioni medievali. Ripeto qua quanto detto, con la definizione invenzioni non uso il criterio di un ufficio brevetti, uso un criterio storico. Faccio un esempio, gli antichi greci per puro divertimento avevano fabbricato già delle macchinette a vapore per stupire gli ospiti, diciamo, l'inventore. Ma è ovvio che il vapore ha cominciato ad essere un'invenzione veramente, a modificare profondamente la realtà nel 1800 e non dopo. E poi ci sono delle invenzioni, così le considerano medievali, che in realtà sono cose importante da altri paesi, dalla Cina, dall'Arabia e da quant'altro. La società è stata recettiva e è stata in grado quindi di importare queste cose nuove. Anche questo è una cosa che non succede sempre, perché talvolta passano dei secoli prima che un'invenzione come la polvere da sparo o la carta, che viene dalla Cina, come sapete, si installi e riesca a trovare una società tale che possa acquisirla nel Medioevo. Abbiamo già parlato quindi degli specchi, degli occhiali, dei vetro le finestre, dei caminetti, del libro di pergamena, della carta, della tavola da pranzo, dell'università e dell'anestesia. E passiamo ad altri argomenti, una grandissima invenzione del mondo medievale, fondamentale senza cui il mondo attuale sarebbe brutto, ed è la pasta in brodo e la pasta asciutta. Può sembrare stranissimo che gli ingredienti per fabbricare la pasta sono molto semplici, farina di grano, duro ed acqua, per cui in sostanza ci si può chiedere perché gli antichi romani che li possedevano, che facevano il pane, non abbiano mai fatto la pasta asciutta. Eppure il medesimo impasto serviva solo per fare delle pappe, delle polente, cuocendo la miscela acquosa con calore umido e non c'era l'idea sostanzialmente di creare una pasta dura e poi di rimetterla a bollire dentro l'acqua. Il diffondersi della pasta si accompagnò a un fondamentale cambiamento della dieta alimentare. Infatti nell'alto medioevo c'erano grandi foreste in cui c'erano degli animali selvaggi ma la gente anche metteva ad esempio i maiali a mangiare le ghiande liberi e la pastorizia era libera anche completamente. Invece nel basso medioevo, con l'aumentare notevole della popolazione, a poco a poco molte di queste forezze furono abbattute, furono trasformate in campi per sfamarsi. Queste immagini che ho messo qua, da una parte questa a destra compare sulla Basilica di San Marco a Venezia e va bene, è il grano che viene tagliato. Quella a sinistra è interessante perché è il mese di maggio nel Battistero di Parma e rappresenta un cavaliere che è a cavallo con una falcia. Perché a cavallo? Perché nel mese di maggio erano possibili l'inizio delle guerre, i cavalieri avevano un falcetto per poter procurare un po' di cereali per il cavallo. La pasta ebbe una nascita molto lenta e laboriosa, con itinerari culturali molto complessi, ancora oggi si fa in modi diversi a seconda delle regioni italiane. Un ulteriore passo fu compiuto, quindi quando non fu più servita nel brodo di cottura, ma asciutta, diventando una vivanda a sé stante, a pasta asciutta appunto. Fin dal XII secolo la Sicilia commercia largamente in pasta secca. Un altro polo di produzione è la Sardegna, soprattutto nei secoli XIII e XIV, ma troviamo la pasta registrata sulle navi in molti porti, come ad esempio Pisa e Genova, e poi ancora in Provenza, e diventa un articolo di grande commercio ed esportazione che interessa anche l'Africa del Nord e l'Andalusia. Vediamo qua la fabbricazione della pasta in una miniatura, anche qua molto meno visibile, è una confezione in serie della pasta. Nel 1371, anzi a Palermo, fu stabilito un calmiere per macaruni blanchi di simula e lasagni di simula, e per macaruni blanchi di farina e lasagni di farina, fissando un prezzo diverso per le due tipi di pasta, l'una di grano duro e l'altra di grano tenero. Nel documento si distingue anche tra pasta axuta, secca, e bagnata, cioè fresca. Il controllo dei prezzi che si rivolge sempre ai beni di prima necessità, il calmiere, dicevamo poco tempo fa, ci testimonia l'importanza che nell'alimentazione aveva raggiunto per tutti la pasta. La pasta, già al tempo di Boccaccio, era considerata un'autentica leccornia, simbolo di abbondanza e di gioia. In una delle novelle del Decamerone, al buon Calandrino, venne fatto credere che esisteva una contrada che si chiamava Bengodi, sapete, nella quale si legavano le vigne con le salcicce e avevasi un oca a denaio e un papero giunta insieme, anche un papero per un denaro, ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavano genti che ni un'altra cosa facevano che far maccheroni e ravioli e cuocerli in brodo di capponi, e poi gli gittavano quindi giù e chi più ne pigliama, più ne aveva. Qua è una rappresentazione, diciamo, della contrada di Bengodi in un quadro di Bruegel, il vecchio. Un'altra fondamentale invenzione del Medioevo è quella che è sostanzialmente la prima macchina, noi leghiamo le invenzioni alle macchine in qualche modo, che ovviamente doveva funzionare non con un motore proprio, ma con un motore esterno come il mulino ad acqua e quella a vento. Qua ho voluto rappresentare una bellissima illustrazione che mi piace molto dal salterio Lutrel, di un mulino ad acqua, ma come spesso accade, l'invenzione del mulino ad acqua, per testimonianza viene dalla Ciglia. Nel 488 d.C. il matematico ed ingegnere Zucconzi, spero che si pronunci così, costruì un mulino ad acqua che fu ispezionato dall'imperatore del tempo Wu. Un altro ingegnere fu incaricato di costruire centinaia di questi mulini poco tempo dopo. Insomma, l'acqua era la principale forza motrice del Medioevo e il detto tirar acqua al proprio mulino è citato anche da un bellissimo, un bravissimo novelliere toscano, il Sacchetti, e deriva proprio dalla regolamentazione dell'uso delle acque per far funzionare i mulini, appunto, non era mica gratuita. E adesso farò una lunga citazione da San Bernardo di Chiarevalle, che è vissuto tra il 1090 e il 1153, è stato fondatore dell'ordine Cistercense ed era un uomo di un'intelligenza incredibile. difatti le sue parole sempre vanno lette così come si leggerebbero quelle di uno contemporaneo perché sapeva scrivere, sapeva parlare e parla appunto dei mulini dentro il suo convento. Lui è stato fondatore di molti conventi, ma prima di tutto in Francia, no? e dice che il fiume penetra nell'interno del monastero, nella misura che è permessa dal muro di Cinta. Passa dapprima attraverso il mulino del grano, dove le sue acque sono utilizzate per la macinazione sotto il peso delle mole e per manovrare il fine staccio che separa la farina dalla crusca. Quindi vedete che qua a cavallo del 1100 già c'è, ci sono dei sistemi complessi meccanici che arrivano non solo a macinare il grano, ma anche a passarlo attraverso uno staccio. Quindi, dice San Bernardo, le acque affluiscono in un successivo fabbricato e riempono la caldaia dove si bolle la birra per i monaci qualora se ne ravvisasse la necessità in caso di scarzessa di vino. Vediamo che questa è l'era già del vino, i monaci preferiscono il vino alla birra che invece è un'invenzione molto utilizzata nei secoli e secoli precedenti, già dai barbari. Dopo di ciò, dice Bernardo, il fiume non ha ancora terminato il suo compito perché viene fatto passare nelle macchine di follatura che sono sistemate dopo il mulino da grano e mentre in questo il fiume aveva dato la sua opera per la preparazione del cibo per i confratelli, ora serve nella produzione dei tessuti, obbedendo docilmente. Vediamo che qua, sì, in quest'epoca già, sì, c'è la produzione dei tessuti. Fa innalzare e abbassare alternativamente i pesanti blocchi di legno delle macchine per la follatura. Se mi è permesso di intercalare uno scherzo in questa seria descrizione, il fiume li assolve da tutte le loro pene e dai loro peccati. Infatti la fatica della follatura, quante schiene di cavalli, quante braccia umane. Si ricorda il passato e oggi ci sono le macchine e quindi funziona. Funziona molto meglio, siamo al 1100. Da questa fatica invece il fiume ci libera e ci fa grazia. Di più, senza il fiume, come potremmo mai vestirci e sfamarci? Il fiume mette tutto in comune ed è il suo lavoro. Compiuto sotto il sole cocenti, non chiede altra ricompensa se non il permesso di andare via. dopo aver sbrigato tutte le incombenze con premura e sollecitudine. Quando poi, con la sua energia, il fiume ha fatto girare velocemente tutte le ruote, genera della schiuma e sembra che abbia macinato se stesso e sia diventato più stanco. Poi entra nella conceria, dove dedica le sue cure e il suo lavoro alla preparazione del materiale necessario per le calzature dei monaci. Quindi, si divide in molti piccoli rivi e nella sua corsa affannosa passa attraverso vari scomparti, giungendo laddove i suoi servigi sono richiesti per gli scopi più diversi, per cucinare, per far girare ingranaggi, per frantumare, innaffiare, lavare, macinare, ammorbidire, sempre offrendo di buon grado i suoi servigi. Infine, per meritarsi completamente i ringraziamenti e per non lasciare nulla di incompiuto, trasporta con sé i rifiuti e lascia tutto pulito. Vediamo che quindi nella descrizione di San Bernardo c'è anche la descrizione del funzionamento preciso di un monastero e dell'utilizzo della forza dell'acqua e dei mulini. I mulini a vento sono successivi invece. È discusso se i primi mulini a vento furono costruiti in Europa o in Siria. Più probabilmente in Europa perché l'installazione di uno di essi sotto le mure di Acre in Siria nel 1189 fece temere alla gente che esso fosse un mostro inusitato. Abbiamo le prime testimonianze verso il 1160 sono situati a St. Mer d'Eglise presso Gillesville in Normandia e poco dopo sappiamo di un mulino a vento vicino a Bristol che aveva anche la base ruotante per seguire l'andamento del vento. quindi in pochissimo tempo i mulini a vento trovano una rapidissima diffusione in varie località della Francia dell'Inghilterra della Fiandola dell'Olanda della Germania in Italia molto di meno e da queste terre hanno diffusione in tutta Europa. I mulini a vento avevano anche una fortuna perché mentre l'acqua aveva tutta una serie di tasse di diritti di passaggio stabiliti dalle consuetudini attraverso secoli l'aria no. Per cui costruire un mulino a venti era possibile senza avere la necessità di un diritto d'aria. Prima o poi ha anche il diritto d'aria così come succede per tutte le tasse invece troverà una regolamentazione. e ora una grande novità molti non si rendono conto che deriva anche questa dal Medioevo ed è l'orologio. Sappiamo che dei modi per misurare il tempo esistevano anche prima del Medioevo qua vediamo un orologio a candela che calcola il tempo col consumarsi della cera sotto la fiamma una presidra che in questo caso è a sabbia ma potrebbe essere anche ad acqua esistevano anche quelle ad acqua che non andavano tanto bene nei paesi nordici perché poi ghiacciavano e quest'altro è un orologio ad acqua si capisce quello più a destra si capisce abbastanza bene il funzionamento perché a poco a poco l'acqua entra in questa sorta di cilindro spinge in su uno stantuffo lo stantuffo attraverso un'asta che ha una serie di incavi fa muovere questa sorta di orologio evidentemente la capacità di essere preciso è molto bassa tra l'altro un orologio ad acqua ce l'aveva anche il grande imperatore Augusto lo mostrava agli ospiti ma era un giochetto anche questo niente che si fosse diffuso e gli orologi ad acqua cominciano a diffondersi nell'alto medioevo alla fine del 200 però l'invenzione dell'orologio meccanico introdusse per la prima volta un tempo nuovo fatto di periodi tutti uguali perché prima invece il tempo della chiesa era giocato su periodi assolutamente legati alla liturgia i primi orologi meccanici funzionavano un po' come la molla di un girarrosto una corda a cui è stato legato un peso e arrotolata intorno a un asse si srotolava con un'accelerazione è costante come è ovvio la durata di una carica dipende innanzitutto dalla lunghezza della corda arrotolata sul terno ma per evitare che una corda molto lunga faccia raggiungere il peso al terreno occorrerà che l'orologio sia appeso molto in alto ecco perché il posto adatto diviene il campanile è uno degli sviluppi dei campanili che sono una costruzione tipicamente medievale nell'età antica non esistevano è proprio l'uso degli orologi meccanici una serie di ruote collegate fra loro può rallentare il movimento in modo da mantenere in funzione l'orologio più tempo senza fare srotolare tutto questo filo ma proprio a questo scopo il più importante perfezionamento di questo meccanismo è il cosiddetto scappamento è un meccanismo che permette di bloccare per un brevissimo periodo di tempo lo svolgimento della corda per farla scappare poi di nuovo questo è lo scappamento e poi bloccarla ancora e farla scappare ancora e far durare questo svolgimento della corda il più lungo possibile questo bloccaggio è quello che dà il caratteristico tic tac dell'orologio vediamo adesso un video che spiega meglio con un orologio costruito in casa ma che è un orologio medievale a muovere tutto è il peso sottostante il cuore del meccanismo è questa cannuccia con le palette del gelato e lo stecchino e i pezzetti di scotch la cannuccia si chiama verga e lo stecchino orizzontale folio o bilanciere il peso scendendo trascina con sé questa ruota con i denti sporgenti i denti sporgenti spingono le palette se non ci fosse la verga con il folio scenderebbe molto velocemente il peso verga e folio lo rallentano perché il peso deve continuamente spingere le palette come spingere per aprire una porta deve spingere per spostare la paletta e così continuare ad andare ma una volta che il dente sopra ha spinto la paletta sopra subito un dente sotto si trova sbarrata la strada dalla paletta sottostante pertanto i denti superiori spingono in questo verso i denti sottostanti spingono dall'altra parte e quindi continuamente il il la verga e folio oscilla avanti e indietro il moto rotatorio viene trasformato in un moto avanti e indietro il moto è continuamente temperato dalla verga e folio insomma qua dobbiamo renderci conto che questi orologi a scappamento sono quelli finché non sono venuti gli orologi elettronici che non fanno tic tac appunto sono stati quelli che abbiamo avuto nella nostra infanzia perlomeno le persone che hanno un'età fino simile alla mia no qua vediamo un bellissimo campanile il più bel campanile di Milano quello di San Gottardo in Corte e è della metà del 300 alla metà del 300 quando i grandi orologi pubblici passarono dal campanile alla torre del palazzo comunale nacque il tempo dei laici per la prima volta separato dal tempo di Dio i primi orologi non avevano quadranti né lancette e si limitavano a suonare le ore come questo qua che c'era appunto a San Gottardo in Corte tanto che il termine inglese clock orologio è molto vicino al tedesco glocke credo che si pronunci così e al francese cloche che significavano appunto campana questo campanile di San Gottardo in Corte è stato costruito più o meno insieme alla chiesa tra il 1330 e il 1336 e quindi fu il primo orologio pubblico a Milano e l'orologio era quindi costituito da una campana che suonava in 24 tocchi che cominciavano però non a mezzanotte come capita a noi ma venivano fatti in modo che cominciassero al tramonto quindi veniva regolato l'orologio in questo modo quindi questa zona di Milano intorno e tra l'altro intorno a Piazza del Duomo era detta appositamente per questo la contrada delle ore Dante nel paradiso paragona il muoversi armonioso della coro ad un orologio meccanico ricordando quando la sposa di Dio la chiesa si leva a recitare il battutino in onore di Cristo è perché questi le conservi il suo amore non leggo adesso le frasi di Dante ma andiamo avanti comunque nel 1344 Jacopo Dondi installò sulla facciata del palazzo del capitano di Padova un orologio astronomico di tale perfezione da far meritare a lui stesso il titolo onorifico dall'orologio per cui fu chiamato Dondi dall'orologio che poi fu trasmesso a tutti i suoi discendenti il figlio Giovanni Dondi dall'orologio che d'acqua nel 1318 e morì nel 1369 dopo un lavoro di 15 anni nel 1364 portò a conclusione un orologio planetario che qua vedete in questo disegno l'astrarium con un meccanismo a scappamento e con bilanciere a ruota era munito di sette quadranti diversi uno per ciascuno dei pianeti allora conosciuti e tutti ruotanti intorno alla terra secondo la teoria di Tolomeo era talmente complesso che alla morte del suo costruttore nessuno riuscì più a correggere i pesi e a farlo funzionare e pur devastato dalla ruggine fu portato l'imperatore Carlo V che si rivolse a un provetto orologiaio Giannello Torriani da Cremone che decise di ricostruirlo copiando a perfezione l'originario abbiamo anche qua a destra l'astrarium di Giovanni Dondi dell'orologio ricostruito stavolta al museo della scienza e della tecnica da un tecnico moderno del 400 gli orologi a scappamento sono ormai così diffusi da condizionare perfino la rappresentazione di un'immagine simbolica del trionfo del tempo di Jacopo da Sellaio che vediamo qua vediamo quindi questo tempo diocronos canuto e male inarnese che come si conviene a un anziano che viene rappresentato sopra un orologio quando che è ormai sotto il suo dominio che è armato di una vecchia classidra con cui ancora regola i moti del sistema di scappamento e governa i movimenti e i pesi dell'orologio perché purtroppo ci doveva essere sempre qualcuno che andava a regolare il quadrante e vediamo alla base dell'orologio due cani uno nero e uno bianco che rappresentano la notte e il giorno è una simbologia complessa quella di Barlam e Yosafat che deriva addirittura da una leggenda indiana su Buddha ma questo ne abbiamo parlato in un'altra conferenza sul Battistero di Parma andiamo avanti quasi subito gli orologi li fanno muovere anche degli automi apprezzatissimi dal pubblico tanto che furono una delle ragioni del loro successo il primo orologio con automi fu installato nel 1351 a Dorvieto presso la cattedrale sulla torre dell'angolo tra via del Duomo e piazza del Duomo ed è tutt'oggi funzionante si tratta del cosiddetto Maurizio forse orologio de Muriccio Maurizio orologio del cantiere e fu in uso fu fuso nel 1348 con una lega usata per le campane e quindi la patina oscura probabilmente ha aiutato al nome Maurizio che voleva dire anche moro sostanzialmente c'è anche una scritta sulla cintura che in cui Maurizio si rivolge alla campana da te a me campana fuoropati tu per gridare e Dio per far il fati cioè campana questi furono i patti tra me e te tu devi gridare e io devo svolgere il mio compito di batterti e la campana si legge per quanto malconcia la risposta se vuoi che attenga i patti dammi piano se no io cassirò e darà in vano se vuoi che io rispetti i patti non battere troppo forte altrimenti mi rompo e tu batterai in vano fu soltanto grazie agli studi di Galileo che l'olandese Christian Huygens Huygens realizzò nel 1065 il primo orologio a pendolo in cui la costante oscillazione permette di non dover regolarlo continuamente se va fuori fase altra invenzione basilane del Medioevo sono le mutande si trattò di un indumento a lungo inusuale soprattutto per le persone povere uomini e donne ne facevano tranquillamente a meno come mostra ad esempio la miniatura nel 1413 nelle ore del Duca di Berry in cui vediamo scaldarsi queste tre persone di cui in due un uomo e una donna si vedono i genitali mentre sollevano il vestito tuttavia è in epoca medievale che nasce nel periodo Longobardo che nascono le mutande così come i pantaloni erano state una creazione sostanzialmente dei barbari all'inizio erano noti come femoraglia la parola ci è riferita da Paolo Diacono che racconta che Alahis Duca di Trento a un diacono che gli domanda udienza per trasmettergli un'ambasciata dell'arcivescovo fa rispondere che può essere ammesso si munda femoraglia abet che vuol dire si porta mutande pulite la pulizia è infatti insita nella definizione di mutanda che deriva dal latino medievale mutare che significa ciò che si deve cambiare basta averle bisogna sempre cambiarle per la verità al diacono Tommaso che risponde che si è appena cambiato le mutande prima dell'udienza il duca Longobardo dice che non è dell'indumento che parla ma di ciò che è dentro il che può alludere alla corruzione del clero oppure anche alla omosessualità del clero o forse semplicemente che il clero non faccia troppo sesso Tommaso ribatte che questo solo Dio non l'uomo può saperlo Alcuni usavano calze molto lunghe nel Medioevo ma per chinarsi dato che il tessuto non aveva elasticità bisognava slacciarle almeno in parte e così che si mostra con molta disinvoltura il lapidatore di Santo Stefano in abiti tardo trecenteschi mentre sta raccogliendo dal suolo delle grosse pietre per finire di uccidere il martire che è stato lapidato queste calze che erano suolate fungevano anche da scarpa e per questa ragione che ancora oggi per riparare le scarpe o per dir meglio le calzature ci richiamo da un artigiano che chiamiamo calzolaio non scarpolaio per intenderci nel 1371 si afferma l'uso di cucire fra di loro le calze maschili prima separate sorretto da un leggi calze e poi viene inserita all'altezza dei genitali la braghetta chiusa da laccio bottoni e spesso usata come tasca supplementare per nascondervi il fazzoletto le monete e il re francese Carlo IX a lanciare la moda di imbottire questa braghetta con lana o cotone fino a farle assumere proporzioni impressionanti in modo da esaltare la potenza del membro virile vedete qua questo è del 1565 molto più tardi quindi per si può dire per due secoli quasi c'è questa abitudine di mostrare dei genitali maschili sovradimensionati no? questo vestiario quindi si diffonde in tutta Europa e solo e gli uomini del rinascimento si pavoneggiarono con voluminose protuberanze inguinali fino al 1580 quando subentrarono abiti più castigati e vediamo questo dipinto di Giovattista Moroni con un ritratto di Antonio Navagero alla pinacoteca di Brera e questo è un ritratto di uno che in quel momento era sostanzialmente quello che reggeva Bergamo ed era in posizioni assolutamente ufficiali per cui non era un ritratto diciamo privato da esporre o da far ridere gli amici ma erano così i numeri arabi i numeri arabi come dice il loro stesso nome non sono nati in Europa sono ma neanche non deriva nemmeno dagli arabi ma dagli indiani che li hanno inventati i romani non erano mai pervenuti infatti all'idea che alla base del sistema di numerazione araba che una cifra semplice incluso lo zero che è stata una conquista importantissima dipende dal posto occupato in un numero di cifre ciò rendeva le semplici moltiplicazioni e divisioni una faccenda da specialisti la prima attestazione in occidente in un manoscritto spagnolo che vediamo qui del 976 che vediamo qui riprodotto in cui ci sono tutti i numeri 9, 8, 7, 6 5, 4 un po' diversi però non troppo 3, 2, 1 come vedete però manca ancora lo zero in questo manoscritto molto interessante è la prima prova della loro esistenza in Italia che è dovuta a un notaio ed ex giudice tale Raniero di Pugna di Berugia scusate che in vari documenti a partire da 1184 e pone la sua sigla insieme a dei numeri arabi perché e qua per capire bisogna fare un passo indietro come sapete i notari erano molto importanti nel Medioevo e avevano un'attestazione di fiducia pubblica delle cose scritte degli atti da loro contro firmati quindi loro dovevano mettere una loro firma sigla anzi di più un timbro per dire che quello che diceva l'atto loro si prendevano la responsabilità di quello che era scritto come succede ancora con i notai oggi e questo era come impedire il problema la contraffazione di questo signum di questo marchio il notaio raniero ebbe un'intuizione aggiunse al proprio signum non in numeri romani che sarebbe stato troppo facile ma in numeri arabi il numero delle righe del documento notarile stesso così marcava e nello stesso tempo identificava il documento stesso senza che nessuno potesse accorgersi di come aveva fatto ecco il signum di questo notaio per quattro anni diversi sono documenti dell'anno 1194 1192 1187 1188 questi quattro marchi ma il vero padre dei numeri arabi non solo in italia ma anche in europa è questo signore qua leonardo fibonacci pisano usualmente conosciuto oggi come matematico ma che era in realtà un mercante e qui cammino sulle uova perché una delle mie ascoltatrici eva caglianello un'esperta di fibonacci forse un giorno ci terrà anche una conferenza su di lui posso sinteticamente affermare che fibonacci che era il figlio di bonacci fibonacci era di pisa e incontrò per ragioni professionali alcuni colleghi di lingua araba a bugia presso algeri dove il padre era impiegato di dogana qui ha preso il sistema di conto da noi ancora adoperato comunemente tornato in patria nel 1202 tradusse il nuovo metodo in un trattato il liber abbaci metodo a cui diede formalizzazione definitiva nel 1228 corrispose per lettera anche con l'imperatore federico secondo interessato alle sue idee non fu solo un divulgatore dei numeri arabi ma introdusse anche le operazioni sui numeri interi e frazionari la trigonometria e l'algebra inventò e mi pare con una semplice nota a un suo trattato la successione di Fibonacci in cui ciascun numero è la somma dei precedenti tranne i primi due che è conosciuta sia in matematica che nelle scienze come un pilastro dei rapporti numerici che caratterizzano la natura in matematica i numeri di Fibonacci sono legati in qualche modo a concetti molto complessi ma voi conoscerete sicuramente come la sezione aurea la sequenza di farei le frazioni continue la z di Fibonacci i gruppi di lì i frattali anche in fisica sussiste un legame con la teoria delle stringhe che concilia la relatività con la meccanica quantistica e molti altri legami sono evidenti in biologia chimica cristallografia musica economia arte elettrotecnica informatica sesso estremo non so ancora di più in che cosa ok e qua siamo alle note musicali forse termineremo qua e le note musicali sono una grande invenzione di Guido D'Arezzo monaco benedettino musicista nato forse a Talla Paressa Rezio o nella zona di Ferrara Pomposa tra il 992 e il 1000 e morte forse a Ravenna nel 1080 straordinario insegnante in campo musicale seppe dare ai cantori la possibilità di leggere intonare con esattezza qualunque canto nuovo senza l'aiuto del monocordo o l'antico strumento ad una sola corda e senza la guida di un maestro una miniatura del 1050 illustra il prologo della regola ritmica e della sua opera più famosa il micro micrologus ce lo mostramente scrive sul leggio il cuore degli uomini ardono vinti dalla mia musica questa è la scritta però dal momento che forse non è il caso che sia io so poco o niente di musica ho pensato di darvi questo video interpretato da una persona assai più competente di me per spiegare l'invenzione della musica ebbene ragazzi vi do il benvenuto al nuovo corso contro la noia e la nostalgia da scuola in tempo di coronavirus siamo giunti al terzo episodio del nostro breve percorso la domanda è sempre la stessa ma la scrittura musicale è i nomi delle notte da dove nascono? in questo secondo episodio affronteremo l'origine dei nomi delle notte ma fammi mangiare ma che me frega ha cambiato il corso della storia della musica il più grande insegnante di musica di tutti i tempi l'inventore dei nomi delle note quel giorno capì che dovevo farmi monaco ma senti ma veniamo all'oggi perché abbiamo saputo proprio dell'altro giorno una sua grande invenzione i nomi delle note cioè nessuno gli era mai venuto in mente una roba del genere ci può un po' raccontare meglio? ah no certo certo chiaro no ma ovviamente stavo giusto appunto scrivendo il capitolo in più sul micrologus dell'invenzione delle note l'invenzione geniale che ho fatto io padre Guido d'Arezzo ma stiamo scherzando maial senta ci spieghi meglio la sua invenzione cosa è successo com'è andata allora vabbè visto che lo volete sapere il racconto il nostro abate vuole assolutamente che impariamo questo canto utqueant laxis che sarebbe l'inno a San Giovanni c'è in tutta la penisola tutti i monasteri non fanno altro che cantare questa è la hit del momento sì ok un po' meno movimento però il concetto è quello io le ho detto alla bate guarda bellissima idea però qui al convento su 30 monaci che siamo ce ne sono 20 che maial senza offesa ce la faranno mai cioè abbiamo dei componenti come padre Marcello ma ci rendiamo conto cioè padre ben ci venne stonati come delle campane questo è quello che passa il convento non pretendiamo adesso che facciamo utqueant laxis così ma ci spieghi meglio di questa sua invenzione cioè cosa è successo com'è andata capito che lei vuole sapere un po' meglio in dettaglio deve stare attento adesso glielo spiego bene per filo e per segno insomma l'altro giorno ero intento a insegnare questo canto che fa così utqueat laxis presonare fis mir agestorum fadonitum soo deconu il labi realum sanqueo quando a un certo momento ho avuto l'illuminazione mi ero accorto che nella prima strofa ogni verso cominciava con un suono differente mettendoli in fila dal primo all'ultimo questi suoni formavano proprio una scala di sei suoni allora ho pensato ma se dessi un nome a questi suoni non sarebbe più facile intonarli ed è allora che ho deciso di usare come nome proprio la sillaba del testo corrispondente a ciascun suono sentite com'è più facile adesso intonare questa scala noi la ringraziamo insomma non sappiamo come sdebitarci per questa spiegazione così dettagliata di questa grande scoperta insomma c'è qualcosa un messaggio che vuole lasciare ai giovani d'oggi mi sembra molto importante come no come no ma è importantissimo parlare sempre ai giovani d'oggi lasciare qualcosa che li possa guidare questa esistenza ma è al quindi vorrei dire ai nostri ragazzi ai nostri giovani cari giovani comprate micrologus soltanto 10 denari la prima edizione è già in vendita prima, seconda e terza copia la quarta, la quinta e sesta copia sono la seconda edizione e sono in corso di copia tra poco nei vostri scaffali eccoci qua spero che abbiate compreso il principio comunque Guido D'Arezzo inventò anche una forma di solfeggio era un grande maestro di musica al cui diede pratica applicazione col sistema della mano armonica detta anche guidonica da lui che non inventò direttamente ma che diffuse secondo tale sistema sulle punte delle falangi delle dita della mano sinistra venivano indicate le note e le scale nel proprio ordine di successione e qua mi fermo